Claudio ieri sera è stato aggredito due volte? Già. Quanto scritto nella nota stampa diffusa dal comitato Arcighei Due Mari riflette solo in parte i contenuti dell'assalto omofobo al giovane Claudio Toscano verificatosi intorno alle due di notte tra venerdì e sabato nei pressi del teatro Cilea nel cuore di Reggio e poi delle parole discriminatorie pronunciate quando con fratture multiple al naso e la deviazione del setto nasale per 30 giorni di prognosi in seguito al violentissimo pugno sferratogli da un energumeno il 28enne omosessuale si è presentato ai riuniti per le cure del caso la violenza è inaccettabile se consumata senza alcun motivo un'auto è sbucata dal nulla i tre occupanti hanno iniziato a inveire contro Toscano parole pesanti poi il terzetto è sceso dall'abitacolo e dopo insulti sempre più grevi si è passati alle vie di fatto per Claudio le conseguenze non sono state peggiori solo per l'immediato intervento di un barman che preso il pugno di striscio ha troncato l'aggressione prestando i primi soccorsi al giovane che grondava sangue sull'episodio indaga la polizia al nosocomio cittadino la spiacevole coda denunciata dallo stesso Claudio Toscano mentre il gay aveva voluto specificare agli agenti di essere stato aggredito proprio per il proprio orientamento sessuale l'infermiere presente alla visita l'ha trattato come fosse un malato te la presento io una bella ragazza e poi vedi ti porto da un bravo psicologo che ti guarisce pseudosaggezza discriminatoria in pillole davvero impossibili da tollerare